ma no coglione eh l'alto fa vedere cosa ha in mano l'alto si dà le chiave faccio più quello sotto cosa fa? oee ciao Anzo eh stai, spero di bisogno ah va bene basta un po' di te giunno ciao l'alto sono resi un leggo una cosa poco una una di migliore scala un po' di venite già un po' per la fuori questa è la via il single io cazzo eh tra sigaretta io sto fumando tu lo sai io ti ricordo di un pezzi dividi e rimasi un po' con i nostri i gesti i mandati a giù e andevo e dicevo io ti servo per questa con levo basta aio 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 i aio 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 un sorriso l'incontro tra batterista e guitarista dai non so chi vedremo poi metterlo qua dove sorriso fai un bel sorriso entra in bici stai inquadrando una testa però fondamentalmente simpatica molto fondamentalmente molto fondamentalmente detto che sei simpatica boh guardiamo in casa della gente ma come zoomare magari c'è qualcuna che si sta cambiando tira abbastanza però dai un bel incidente in diretta che lo mandiamo a 8mm fa lo te in ricordi cosa ne fosti fa lo te in bici grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti